Ma trading e investimenti sono la stessa cosa? E' bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda andando ad analizzare le caratteristiche che fanno sì che il trading e gli investimenti siano due cose completamente diverse. Molto spesso infatti questi due termini vengono utilizzati come sinonimi da chi magari non sa, ma la realtà dei fatti dice l'esatto opposto. Il trading è un'attività per cui colui che la esercita compra e vende titoli finanziari sul mercato con l'obiettivo di trarre un profitto dalla differenza di prezzo. Da 30 anni a questa parte e con la nascita di internet successivamente, oggi non si va più in borsa come una volta per partecipare alla cosiddetta borsa gridata che consisteva in un sistema di negoziazione in cui gli intermediari autorizzati presentavano le loro proposte di acquisto e di vendita specificando il titolo, il prezzo e la quantità. Se ci pensate bene è abbastanza curioso il fatto che prima le persone dovevano urlare, sbraitare e fare dei gesti in dei recinti per proporre e chiudere gli affari. Mentre oggi con un semplice click chiunque può operare senza spostarsi da casa e non è scontato perché come ho detto prima solo gli intermediari autorizzati potevano prendere parte alle contrattazioni. Ok che gli intermediari agiscono per conto dei clienti, ma sicuramente una persona della piccola e media borghesia non rientrava in queste categorie. In questo sistema le transazioni avvenivano verbalmente e formalizzate per iscritto nel corso della giornata. Al giorno d'oggi invece la negoziazione avviene in maniera telematica grazie all'utilizzo di apposite piattaforme di trading che vengono messe a disposizione da tutti i broker presenti sul mercato. Dopo questa breve parentesi storica vediamo insieme la definizione corretta di trading per me. Ho scritto testuali parole. Il trading consiste nell'attività di comprare e vendere una stock, una coppia di valute, una materia prima o un qualsiasi altro strumento finanziario e guadagnare dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita dello strumento selezionato. Quindi sostanzialmente è una mera speculazione sul prezzo. Ma questa come si fa? Alla base del trading c'è lo studio dell'analisi tecnica. Sicuramente la maggior parte di voi ne avrà sentito parlare. Infatti questa consiste nello studio dell'andamento della price action e mira ad identificare delle tendenze utilizzando strumenti come medie mobili, indicatori, pattern e volumi. Ovviamente non è tutto qui perché se fosse così facile lo faremo tutti e saremo tutti ricchi. Fare trading è un'attività rischiosa. Infatti bisogna ricordarsi che operare sui mercati finanziari è un gioco a somma zero. Cosa vuol dire? Significa che per ogni persona che compra io ho una controparte che vende. Capite bene che il prezzo si muoverà solo in una direzione. E la perdita di una persona corrisponderà al guadagno di un'altra. Mentre quando si parla di investimenti, quando io compro un'azione, divento socio di quell'azienda e sto investendo in essa perché penso che nel lungo termine mi possa dare dei rendimenti e in linea con le mie aspettative. Gli starete chiedendo quali aspettative? Beh, indubbiamente quelle che fate quando andate a studiare quell'azienda. Quindi il business model, chi è il CEO, il balance sheet, vedere gli asset. Quindi tutte le attività che portano un flusso di cassa positivo all'interno dell'azienda. Le liabilities, che sono le passività, e tutta una serie di altri parametri come il cash flow statement, l'EPS e il rapporto prezzo utile, meglio conosciuto come PR ratio e indicatori di bilancio come il ROA, il ROI, il ROE. Ma non finiscono di certo qui. Ci sono infatti molte metriche che bisogna valutare prima di decidere di mettere in portafoglio quel titolo specifico che stiamo analizzando. Tutte queste considerazioni che noi facciamo rientrano nella cosiddetta analisi fondamentale. che è appunto l'analisi non più del prezzo come nel trading, ma di due macro aree. La prima infatti riguarda lo studio di indicatori relativi al sistema economico come PIL e inflazione e di come questi impattano sul prezzo degli strumenti finanziari. La seconda invece si basa su tutte le metriche descritte precedentemente. Quindi è necessario studiare a fondo tutte le informazioni relative all'azienda per capire se ha un valore o un fair value, come si dice in gergo tecnico, più alto del prezzo di mercato. Giungiamo dunque alla prima differenza che secondo me c'è ed è quella del tempo. Il tempo inteso sia come durata delle operazioni e sia come il tempo che si dedica ad un'attività rispetto a un'altra. Perché? Perché le operazioni di un trader possono durare dall'arco di una giornata a qualche mese o poco più. Quindi siamo sul breve termine. Mentre l'investitore compra quell'azienda per averla per più tempo, dei mesi o un paio d'anni. Addirittura Warren Buffett, il più grande investitore di sempre, dice che l'orizzonte temporale preferito per detenere un'azione è per sempre. E aggiunge Se non ti senti a tuo agio a tenere un'azione in portafoglio per dieci anni, non dovresti tenerla per dieci minuti. Tra l'altro, citando Warren Buffett, non si può non parlare del suo braccio destro, che è scomparso proprio ieri, 28 novembre, ovvero Charlie Munger. Senza l'ispirazione, la saggezza e la partecipazione di Charlie, Berkshire Hathaway non avrebbe potuto essere costruita fino al suo status attuale, ha dichiarato Buffett. Tornando a noi, nel trading in genere si sta molto tempo sui grafici, per controllare le operazioni o anche per cercare nuove opportunità. Ma questo dipende anche da che genere di trader è colui che fa questo mestiere. Sì perché è una vera e propria professione. Mentre nel mondo degli investimenti, una volta fatta l'analisi dell'azienda e averla comprata, se rientra nei nostri parametri, la teniamo in portafoglio fino a che non cambiano le condizioni per cui l'avevamo comprata. La seconda differenza che ho individuato è puramente tecnica e risponde alla seguente domanda. Come possiamo proteggerci nel caso in cui un'operazione di trading o un investimento dovessero andare male? Quindi come gestiamo il rischio? La risposta è con uno stop loss nel trading e con la diversificazione negli investimenti. Cosa sono questi concetti per chi non mastica la materia? Li vediamo insieme. Allora lo stop loss è letteralmente ferma la perdita ed è una tipologia di ordine che inseriamo sulla piattaforma di trading e corrisponde ad un livello di prezzo che esprime la massima cifra che siamo disposti a perdere in quell'operazione lì. Ed è un cuscinetto sostanzialmente che noi utilizziamo per non perdere tutto il capitale subito. Come si stabilisce il livello di prezzo al quale posizionare questo stop loss? E in genere le risposte che vengono date sui libri sono due. O corrisponde ad una percentuale fissa sul totale del capitale che utilizziamo per fare trading oppure lo si individua graficamente attraverso delle strutture eccetera. Non voglio entrare in tecnicismi. Invece dall'altra parte il metodo per proteggere un nostro investimento è la diversificazione ovvero non mettere tutte le uova in un paniere quindi suddividere il capitale attribuendo delle percentuali maggiori a delle azioni o a degli etf che magari conosciamo meglio perché abbiamo studiato di più. Oppure in quelle più rischiose perché siamo più propensi al rischio o per qualsiasi altro motivo. Va da sé comunque che diversificare non vuol dire che tutti gli investimenti andranno bene ma almeno eviteremo di perdere tutto il capitale avendo in portafoglio solo una o due azioni. La terza differenza di cui voglio parlare sono i soldi ovvero il capitale minimo necessario per intraprendere entrambe le attività. Spesso mi compaiono online pubblicità ingannevoli di broker poco seri che spingono chiunque ad iniziare a far trading con 100 euro con una leva 1 a 200 e guadagnare subito tanti soldi. Se non sapete che cos'è la leva tra l'altro scrivetelo nei commenti che ci facciamo un bel video. Comunque quella appena descritta è la ricetta perfetta per la distruzione del tuo capitale perché per fare trading è richiesto prima uno studio di anni e ancor più anni di pratica così come un medico non opera un paziente dal giorno alla notte oppure un ingegnere o un architetto se non hanno alle loro spalle anni di studi ed esperienza sul campo non progettano un palazzo o un edificio. E la stessa cosa vale appunto per il trading. Avendo letto varie cose seguendo un po' di persone online ho sentito dire da più o meno tutti che la cifra ottimale con cui iniziare è tra i 10 e i 30 mila euro quella minima invece è 5 mila euro. Per gli investimenti il discorso cambia perché il bello è che si può iniziare ad investire con cifre piccole anche 100 euro al mese come ho detto anche nel mio primo video. Iniziare ad entrare nell'ottica di investire costruendosi un pack di etf secondo me è l'ideale per un giovane come me e te ad esempio che non hanno molti soldi da parte e quei pochi vuole farli fruttare in qualche modo in questo periodo di alta inflazione anche se comunque sta scendendo dato il rialzo che c'è stato nei tassi. Ovviamente non vi aspettate di guadagnare cifre astronomiche è tutto proporzionale al capitale che investite ma solo il fatto di iniziare può veramente essere un vantaggio nel lungo termine. La quarta e ultima differenza è la psicologia quindi la parte emotiva che bisogna gestire nel trading e negli investimenti perché le emozioni possono decisamente avere un impatto sulle performance di un investitore o di un trader. L'attività di trading secondo me è un po' più rischiosa proprio per questo motivo perché delle volte le motivazioni che possono spingere una persona a fare trading sono irrazionali. La psicologia prende parte attiva nel processo decisionale di un trader ad esempio l'avidità ti può spingere ad aprire la monopola del rischio rischiando di perdere più di quanto è ridisposto. Oppure la FOMO che una persona può provare quando vede il prezzo di un'azione che magari è schizzato del 50% in due giorni e decide di acquistarla senza aver fatto alcun tipo di analisi o ipotesi al riguardo. E potrei andare avanti. Questo tipo di emozioni non si limitano solo al mondo del trading ma le troviamo anche dall'altro lato perché banalmente siamo esseri umani e in quanto tali proviamo emozioni. La maggior parte dei libri che ho letto dicono tutti la stessa cosa riguardo la psicologia ovvero che non bisogna cercare di annullare le emozioni ma piuttosto riconoscerle e imparare a conviverci quando siamo davanti per esempio a un grafico che stiamo analizzando il prezzo di un'azione nel caso del trading o i bilanci di un'azienda nel caso si voglia appunto investire. Bene ragazzi il video di oggi termina qui io spero davvero che vi sia piaciuto se fosse così fatemelo sapere sotto con un like un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivare la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi.